La Chiesa, obbedendo al suo fondatore Cristo Gesù, si sforza di annunciare la parola di Dio, una parola concreta che trasforma il cuore dell'uomo da cattivo, rachitico, in un cuore dolce, amabile, che porta gioia, che porta serenità. E affinché la missione del cristiano sia veramente efficace, salvifica, Gesù inviò i primi apostoli, i primi discepoli e li mantò. Mi sarete miei testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giordea e la Samaria e fino agli estremi confine della terra. Quindi questo mandato che Gesù dà ai Suoi discepoli è diretto anche a noi, è diretto direi non tanto a noi sacerdote perché è insito nel nostro carattere sacerdotale, ma in modo particolare a tutti i cristiani perché già essi nel sacramento del battesimo ricevono il mandato di essere apostoli di Cristo Gesù. E questo messaggio deve calare nella fede del popolo cristiano perché facilmente viene preso dalle varie attività che sono giuste, sono palliativi e non, però vengono a incidere su un fatto fondamentale della vita dei cristiani, cioè ci distraggono dall'impegno di essere portatori di Cristo. Il compito specifico dei laici è rendere attuale il Vangelo, incarnando la vita con le beatitudini, beati i poveri, beati i misericordiosi, beati gli operatori di pace e così di seguito. Cioè notizie grandiose, bellissime che Gesù annuncia al colore che lo stavano ad ascoltare, ma sono rivolte anche a noi. E quindi un apostolato dei laici in tutti i campi, nella politica, nello sport, nella cultura e nel commercio, dovunque, perché dovunque ci sta Cristo, porta onestà, porta giustizia, porta amore, porta pace. I laici non si devono sentire impegnati a questo apostolato demandati dai parroci. Auggio è accennato, è il battesimo stesso che gli dà l'investitura. Tutta più possono collaborare e collaborare significa lavorare insieme, non per delega, non per comando. L'evangelizzazione non si può esaurire nel tempio, nell'ambito della chiesa, ma in modo particolare i laici possono essere i missionari, gli apostoli che escono dal tempio e vanno in cerca della pecorella smarrita. Purtroppo il popolo cristiano stende a frequentare, come magari gli antichi ebrei, il tempio di Gerusalemme, stendono a frequentare la chiesa come edificio di culto, partecipare alle varie funzioni liturgiche, un po' per il lavoro, un po' per stanchezza, un po' perché non ne sente la necessità. Varie sono le difficoltà che si presentano. Eppure, se si vuole essere missionari, ascoltatori del mandato di Gesù, è necessario caricarsi di Lui, avere dentro di sé Gesù e Eucharistia, vero Dio, vero uomo, sanque e carne, che noi lo portiamo nell'Eucharistia dentro di noi, e uscire dal tempio per andare in cerca della pecorella smarrita. Un apostolato semplice, spicciolo, anche della donna di casa, che incontra l'amica e dice buongiorno, e quella magari si lamenta, c'è un fortissimo male di testa, e gli dà una parola di conforto. Ha fatto un'opera di carità, ha portato Gesù nel cuore di questa persona. Quindi, vedete, vivere Gesù come missionari è bellissimo ed è anche facile. Si vuole soltanto convinzione e attenzione a privarsi di qualche piccola comodità per mettersi a disposizione degli altri. Il compito specifico dei laici è rivivere la parola del buon pastore che va in cerca della pecorella smarrita. In effetti, rendere presente Cristo nel campo del lavoro, della politica, dell'economia. Padre Pio applicava alla sua vita un tetto di Francesco di Assisi, che poi è il detto che anche noi frati seguaci di Francesco viviamo, mente in cielo e occhi a terra. Padre Pio aveva la mente in cielo, pregava sempre. Invocava la Madonna, invocava i Santi, invocava Dio Padre, pregava sempre, ma nello stesso tempo guardava a terra. Cioè, vedeva la miseria del popolo, vedeva come soffriva la fame, vedeva come la gente si trovava incolfata in peccati che potevano essere guariti se ci fosse stato più vicino l'Apostolo del Signore. Grazie a tutti.